Ciao amici di Toretto Games, buongiorno e buon Natale! Auguri, 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 auguroni, auguroni a tutti! Siamo qui anche oggi leggermente in ritardo rispetto al solito, ma su è Natale ragazzi! Andiamo a vedere le novità di oggi e io oggi sono arrivato anche al punto di poter prendere il giocatore se segnerò il rigore 1-3-4, Maradona, Costa Curta, Cristiano, Ronaldo. Vedremo, 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 ma adesso vedremo tutto in dettaglio, non appena il gioco caricherà. Eccoci qua, allora, vediamo un po'. FC Champions League, i tre giocatori che vi avevo presentato venerdì sono proprio loro, Cristiano Ronaldo, Koulibaly e Kanté. E questo dovrebbe essere anche il primo pool dell'FC Champions League, si vede che qualcosa è cambiato nel rapporto tra l'FC Champions League e Konami. I giocatori turchi invece non sono una novità, qui c'è il bonus di accesso, qui c'è la campagna Festive Season, oggi quinto giorno e quindi 50 monete. Un giro di Italian Clubs, insomma, quello che più o meno ci aspettavamo. Qui Konami ci dice che dal 25.12 al 3 gennaio risponderanno meno del solito, buono a sapersi. 10.000 bonus di accesso, 50 monete e il Festive Season, che alla fine ne avremo 8 in totale, prenderemo tutti i giocatori che vogliamo. Allora, cominciamo a vedere in partita che cosa c'è, eventi, vediamo l'FC Champions League. Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, abbiamo l'FC Champions League, questo è PvP. Ah, dettagli. che includi 23 giocatori per il bonus, le squadre dell'FC Champions League. I premi sono 50 monete di football, un'aggiunta abilità e due aggiunte abilità. Stranamente queste 50... ah no, è PvP, eccolo, 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 scusate. FC Champions League è sempre con le 50 monete d'oro, quindi qui vi possono dare anche i giocatori in prestito senza, sostanzialmente, problemi. Perdonatemi, sembrava le versus sia. Quindi 50 monete d'oro, sempre PvP, round 2 del Barcellona è terminato, il template fan è il team play, scusate, no, il template. Team play fan, penalty shout out, Brazilian clubs e Turkish clubs sono gli eventi di giovedì scorso. Versus sia, qui abbiamo gli eventi già disponibili, l'evento nuovo è questo, dell'FC Champions League, questo sì, offline, il ticket Champions League, 30.000 GP, 30.000 GP è un'aggiunta abilità. Diciamo che eventi siamo al solito lunedì canonico, diciamo, canonicissimo. Poi, andiamo a vedere, no, non ci sono novità nel missione, non nel negozio, per curiosità andiamo a vedere, ma non credo che ci siano novità. Gli oggetti sono sempre quelli, hanno tolto il rinnovo dei contratti. A questo punto non sa veramente cosa farci con i punti football, almeno io, perché i giocatori che ci sono, i giocatori ottenibili, sono davvero pochi e per me poco interessanti, anche se qualcuno ha preso il giovane giocatore del Barcellona. Andiamo a vedere in contratto. Mi sa tanto che c'è solo il pool FC. Controlliamo, Brasile Rao, J League, Club Icons, quando mi scadono? Primo gennaio. Ah, beh, no, vabbè, 5 gennaio. Eh, mi sa tanto che domenica prenderò il signor De Bruyne. Spanish, Italian, eccolo qua, il giro gratis. Io lo faccio domenica prossima, tanto lo sapete. Ho già pescato Turam, Quadrato e Musa, ieri Quadrato e Musa, i due più scarsi, tra virgolette. Speriamo di beccare Hernández quanto prima, perché dal 4 gennaio devo tornare a giocare il campionato. Già ho registrato tutte le partite per questo periodo di festa e speriamo di beccare Hernández meglio prima che poi. Comunque, vedremo domenica prossima con altri due giri. Italian, Spanish, English, eh. Qui è tutto quello di giovedì. Eccolo qui il nuovo pool con gli Showtime che fa fiamme, fa fiamme. Allora, volevo vedere prima di tutto i giocatori. Sì, ecco, questi sono in evidenza. Andiamo un secondo a vedere molto rapidamente. Allosani, giocatore che non conosco. Rungratpupupu, Michantuk, altro giocatore che non conosco. Inoue, incontrista e non conosco neppure lui. Yoshio, vedi prima. Kanté, questo non è il Kanté quello forte, questo è un altro Kanté, non so se siano fratelli non lo so Zeka e poi vabbè ci sono Brozo, dice Luis Felipe Pianici in versione normale diciamo, Fabinho hanno una grafica un po' diversa ma sembrano standard e poi c'è Talisca che conosco invece niente male 34 livelli di crescita dopo i 3 showtime sicuramente uno dei 3 giocatori più interessanti ci sono anche Neymar e Benzema a base ed ecco qui Koulibaly boostato in comportamento difensivo, contrasto, accelerazione e salto, difesa più 2 ha un bel po' di leader, spirito combattivo insomma, un bel Koulibaly 28 livelli di crescita Kanté, questo è quello forte 27 livelli di crescita, boostato anche lui no, un po' diverso in duelli e lui c'è un sacco di parametri e di abilità interessanti e poi CR7 opportunista più 2 per tiro finalizzazione, controllo palla potenza di tiro contatto fisico e lui pure di abilità giocatore ne ha tantissime punta opportunista tre bei giocatori che da me giocherebbero indubbiamente anche perché arrivano 98, 96, 96 eh, non fosse che il pool è da 150 giocatori questi tre giocatori sarebbero molto molto interessanti va bene noi andiamo avanti col nostro insomma un aggiornamento natalizio tutto a base di FC Champions League andiamo a giocare il giocatore bonus vediamo se riesco a sbloccare l'accordo al buio se segno lo sblocco se non segno non lo sblocco e vai il GP casella e gorra aggiunta eccolo qua il giro abbiamo preso adesso iniziamo il nuovo giro e questo questo giro ci porterà solo 50.000 GP eccolo qua poi 10.000 ESP 10.000 ESP al settimo giro ci sarà un altro accordo al buio worldwide al decimo giro 100 monete ai football all'undicesimo giro un altro accordo al buio worldwide insomma per prendere tutti i 4 accordi al buio bisogna fare in tutto 15 giri e qui siamo solo al quarto giro vabbè andiamo avanti quindi segnate i rigori quanti più possibile cercate di non perdere neppure un giro eccolo qui allora due giocatori no questo lo giro oggi non aspetto domenica dai allora dov'è 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 il giro gratis oh eccolo qui epic worldwide 4 giri vediamo tutti costa curta gustato in comportamento offensivo in contrasto in velocità in resistenza duelli più 2 abilità giocatore niente male 37 livelli di crescita diego armando maradona torna finalmente a essere disponibile nel gioco con questo gioco bonus tecnica più 2 eccolo qui classico numero 10 abilità giocatore passaggio filtrante passaggio calibrato cristiano ronaldo 29 livelli di crescita lui non è bustato è solo è solo forte opportunista è un bel po' di abilità giocatore e poi il famigerato cobel in reto ho visto tanti che hanno pescato lui mettendo tante lacrimucce è un portiere offensivo non si capisce bene che abbia messo questo giocatore con amine poteva mettere 4 che uno pesca ed è contento sostanzialmente perché anche quel cristiano ronaldo non ci dispiace cobel sarebbe speriamo di pescarlo alla fine maradona e costa curta tutte e due 97 quindi squadra saranno 100 101 insomma costa curta volevo vedere terzino difensivo però io lo potrei usare anche difensore centrale tra l'altro va bene andiamo a giocare speriamo in maradona numero 1 in costa curta numero 2 in cristiano ronaldo numero 3 vediamo non ci sono i fuochi artificio già mi preoccupo cristiano ronaldo vabbè terza scelta in questo caso terza scelta però non è quello boostato gli mancano quei due punti in boost però guardate un po' può essere che cristiano ronaldo entri nelle rotazioni soprattutto vedremo 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 va bene ragazzi auguro un buon natale stasera continua il mio campionato lo sapete c'è un contenuto al giorno anche a natale anche al capodanno anche all'ultimo dell'anno insomma tutto 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 ragazzi buona giornata e ancora buon natale ciao ciao